era notte profonda perseo guardò in alto e vide la luna piena argentea che piacere arrivare lassù e rimanervi sempre poi guardò in giù e vide la terra coi suoi mari i suoi laghi i corsi argente i dei fiumi le vette nevose delle montagne i campi vasti le cupe zone dei boschi le città di marmo bianco e l'isola di serifo dove viveva danai una luce suave illuminava la placida scena e la terra parve a perseo bella quanto poteva esserlo una stella talvolta egli e argento vivo si avvicinavano a una nuvola che da lontano sembrava fatta di barmbagia d'argento e allorché vi penetravano si trovavano tutti agghiacciati e inumiditi dalla nebbia grigia ma in un baleno così veloce era il loro volo emergevano dalla nube e tornavano nel cielo sereno ma la cosa più bella erano le meteore che risplendevano a un tratto simili a fuochi che si accendessero nel cielo e facevano impallidire la luce della luna per centinaia di miglia intorno mentre i due compagni volavano parve a perseo di sentire il fruscio di una veste accanto a argento vivo eppure non vedeva nessuno all'infuori di lui di chi è questo vestito che fa tanto fruscio nella brezza domandò è di mia sorella rispose argento vivo essa viene insieme con noi come ti avevo detto senza lei non riusciremmo a nulla perché oltre ad essere saggia e la certi occhi ora ti vede come se tu non fossi invisibile e sarà la prima a scoprire le gorgoni frattanto andando per l'aria erano giunti in vista dell'oceano al di sopra del quale volavano a grande velocità lontano lontano sotto ad essi le onde si agitavano furiosamente in mezzo al mare e si frangevano lungo i lidi e contro le balze rocciose con un muggito spaventoso per gli abitanti delle sponde ma che agli orecchi di per sé o giungeva simile al mormorio gentile della voce di un bambino quasi addormentato allora una voce di donna parlò nell'aria accanto a lui una voce melodiosa ma grave e dolce la quale disse per sé o ecco le gorgoni dove sono domandò il giovane non le vedo sulla spiaggia dell'isola sulla quale ti libri in questo momento se getti giù un sasso cascherà in mezzo a loro te l'avevo detto che la sarebbe stata la prima a scoprirle esclamò argento vivo eccole là giù a due o tremila piedi sotto di lui per sé o scorse una piccola isola e vide che il mare si frangeva in bianca spuma tutto intorno alla riva rocciosa meno che da una parte dove era un lido di sabbia bianca come la neve egli discese verso quel luogo e guardando intensamente una massa lucente ai piedi di un precipizio di rupi nere nere poté distinguere le terribili gorgoni dormivano profondamente cullate dal rumore tempestoso del mare per quietare quelle creature feroci era necessario un fracasso assordante la luna rischiarava le loro squame d'acciaio e faceva corruscare le loro ali dorate aperte in languido abbandono sull'arena i loro bronze e artigli orribili a vedersi si aggrappavano alle rocce battute dalle onde mentre in sogno esse sbranavano qualche infelice mortale anche i serpenti che avevano sulla testa sembrava dormissero solo di quando in quando l'uno o l'altro si contorceva alzava il capo e tirava fuori la lingua biforcuta emettendo un lungo sibilo poi finiva con l'acquietarsi tra i fratelli e le sorelle serpenti spettacolo impressionante viste così le gorgoni somigliavano più che altro a giganteschi insetti mostruosi a scarafaggi immensi dalle ali d'oro a libellule a simili specie di animali ma un milione di volte più grandi e belle e brutte ad un tempo con qualcosa di umano nelle loro forme fortunatamente per perseo per la posizione in cui giacevano avevano le facce completamente nascoste poiché se egli le avesse guardate un solo istante sarebbe caduto a terra rimanendo di pietra ora bisbigliò argento vivo mentre svolazzava accanto a per seo è il momento di agire fa presto poiché se una delle gorgoni si sveglia non sei più a tempo quale devo colpire domandò per seo sguainando la spada e avvicinandosi alla terra non v'è differenza dall'una all'altra quale delle tre è medusa conviene sapere che medusa era il solo di quei mostri a cui per seo potesse troncare la testa alle altre due anche se avesse avuto la spada più tagliente che sia mai esistita non avrebbe potuto fare il più piccolo male sii prudente ripeté la voce calma che aveva prima parlato una delle gorgoni comincia a stirare le membra e sta per voltarsi quella è medusa non guardarla altrimenti diventi di pietra fissa lo sguardo sul tuo scudo dove il suo corpo e il suo viso si riflettono come in uno specchio per seo comprese ora perché argento vivo l'avesse esortato a lustrarlo sulla superficie di esso vedeva nitidamente la faccia della gorgone in tutta la sua bruttezza i serpenti che per la loro natura velenosa non potevano quietarsi si torcevano sulla fronte di lei e mai faccia più fiera e orribile era stata veduta né immaginata da creatura mortale eppure quella testa aveva una certa bellezza una bellezza strana paurosa quasi selvaggia teneva gli occhi chiusi essendo ancora immersa in un sonno profondo ma un'espressione inquieta le turbava i lineamenti come se fosse agitata da un sogno cattivo digrignava le zanne bianche e con gli artigli di bronzo scavava la sabbia anche i serpenti sembrava sentissero il sogno di medusa e fossero più agitati del solito si torcevano in modo spaventevole si attorcigliavano fieramente alzando cento teste sibilanti senza aprire gli occhi su su presto ammazza la gorgone bisbigliò argento vivo che cominciava a spazientirsi calma calma soggiunse la voce grave e melodiosa a fianco del giovanotto guarda nello scudo mentre scendi giù e bada di non fallire il primo colpo perseo si avvicinò a terra piano piano guardando fissamente la testa della medusa riflessa nello specchio dello scudo grazie a tutti